Adesso è arrivato il tempo di annunciare la fine della mia carriera di atleta professionista. Il mio istinto, le mie sensazioni mi dicono che è il momento giusto di ritirarmi e dell'attività agonistica perché tutta la carriera, tutta la vita ho seguito il mio istinto e l'istinto è arrivato dopo le Olimpiadi. Il sogno è naturalmente di creare una squadra compatibile e anche che vincono i mondiali, medali mondiali, Coppa del mondo e anche medali olimpici, quello è l'obiettivo.